Come si svolgerà la gestione multidisciplinare della dissezione della orta? La questione nodale è rappresentata dal concetto di appropriatezza di trattamento all'interno delle strutture cardiologiche italiane contestualizzate al tipo di organizzazione interna. Ho voluto invitare alcuni tra i più grossi esperti di cardiologia della orta ascendente che si confronteranno con una compagine locale rappresentata da esperti del settore dell'ospedale Santa Maria di Terni. Il mio auspicio è quello di poter formulare un percorso diagnostico terapeutico nell'ambito di trattamento della patologia acuta della orta ascendente e della orta toraco-addominale alla luce delle nuove esperienze e dell'evoluzione tecnologica nell'ambito del trattamento della patologia ortica acuta.